Le omarie che il Papa Francesco pronuncia la mattina a Santa Marta sono delle vere profonde catechesi, molto situate nella vita dell'uomo di oggi. Non dà dei pensieri astratti, ma spezza la parola, non solo per i partecipanti alla concelebrazione eucharistica, ma per tutti, perché i giornali, il giorno dopo, in media, un po' tutti, raccontano quello che Papa Francesco ha esposto nella catechesi. Oggi il quotidiano avvenire e ci parla della omelia che il Papa ha pronunciato ieri, dove dice che il cristiano deve essere luce e sale per gli altri. Essere sale e luce per gli altri senza attribuirsi meriti. Questa è la semplice testimonianza abituale, la santità di tutti i giorni, a cui è chiamato il cristiano. Lo ha sottolineato il Papa a partire dal Vangelo dell'omelia di ieri mattina per la messa a casa Santa Marta. La testimonianza più grande del cristiano, ha spiegato il pontefice, è dare la vita come ha fatto Gesù, cioè il martirio, ma c'è appunto anche un'altra testimonianza, quella di tutti i giorni, che inizia la mattina, quando ci si sveglia e termina la sera, quando si va a dormire. Sembra poca cosa, ma il Signore con poche cose nostre fa dei miracoli, fa delle meraviglie, ha notato Francesco. Bisogna quindi avere questo atteggiamento di umiltà, che consiste nel cercare soltanto di essere sale e luce, sale per gli altri, luce per gli altri, perché il sale non insaporisce se stesso, sembra al servizio. La luce non illumina se stessa, sembra al servizio, sale per gli altri. Piccolo sale che aiuta ai pasti, ma piccolo. Al supermercato il sale si vende non a tonnellate, non in piccoli sacchetti, è sufficiente. E poi il sale non si vanda di se stesso, perché non serve se stesso. Sempre è lì per aiutare gli altri, aiutare a conservare le cose, insaporire le cose. Semplice testimonianza. Il Signore ci dice, tu sei sale, tu sei luce. Noi quando mangiamo, ha spiegato ancora il Pontefice, non diciamo buono il sale, ma diciamo buona la pasta, buona la carne. Di notte, quando andiamo per casa, non diciamo buona la luce. Ignoriamo la luce, ma viviamo con quella luce che illumina. Questa è una dimensione che fa che noi cristiani siamo anonimi nella vita. Non siamo protagonisti dei nostri meriti. Una bella preghiera per tutti noi. Alla fine della giornata sarebbe domandarsi, sono stato sale oggi? Sono stato luce oggi? Questa è la santità di tutti i giorni. Che il Signore ci aiuti a capire meglio. E mi sembra come l'identità del cristiano sia ben tracciata, questo identikit, il sale, dice il Papa, non si vanda di se stesso, nella luce si vanda di se stessa, ma è al servizio dell'uomo che mangia o dell'uomo che in una stanza buia improvvisamente si accende la luce e quindi gli dà la direzione del suo cammino. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata. Grazie. Grazie.